Il ragazzo di 17 anni è stato colpito con alcune coltellate ed è rimasto gravemente ferito al culmine di una rissa scoppiata nel centro di Reggio Calabria, in piazza Camagna. L'episodio risale alla tarda serata di sabato scorso, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. Il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito dapprima alla testa con un casco da motociclista e poi a coltellate in varie parti del corpo. Il ragazzo è stato portato nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Il 17enne al momento è sottoposto a terapia intensiva. Secondo quanto si è preso, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ma un finanziere fuori servizio è rimasto contuso nel tentativo di impedire l'aggressione ai danni del ragazzo. Il movente dell'aggressione contro il 17enne al momento non è stato accertato. I carabinieri hanno sentito alcuni testimoni per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. All'aggressione, tra l'altro, avrebbero preso parte altri ragazzi che erano insieme al responsabile dell'alcoltellamento. Le indagini sono dirette dalla Procura Ordinaria e dalla Procura della Repubblica dei Minorenni.